E' arrivato il turno dello stoicismo o forse della scuola ellenistica che più ha avuto ripercussioni e nello spazio, che più si è diffuso oltre i confini greci, e nel tempo, cioè che più ha influenzato scuole, dottrine, correnti, atteggiamenti filosofici sia contemporanei ma anche e soprattutto futuri. Nella storia della filosofia europea fino a quella contemporanea. Allora, lo stoicismo è una scuola ellenistica appunto, nasce e si sviluppa nello stesso periodo delle altre due che abbiamo già visto, e viene fondata in particolare da Zenone, Zenone di Cizio, uno dei tanti Zenone della storia della filosofia. Anche la scuola stoica si divide in tre branchi, la logica, la fisica e l'etica. Queste tre branchi della filosofia, come in tutte le scuole ellenistiche, sono in realtà un corpo unico, sono tutte finalizzate alla ricerca della condotta migliore per il raggiungimento della felicità. Sono diverse le figure, le immagini che dello stoicismo si possono dare nel come queste tre scienze, queste tre branche, si regolano tra loro, sono tra loro in equilibrio. Una è quella dell'uovo, che è l'immagine qui riportata, dove la logica è il guscio, quello che tiene insieme tutto, la fisica è il bianco, l'albume, e l'etica è il tuorlo. O un'altra immagine, forse ancora più interessante, è quella del giardino, dove la logica è il recinto, la fisica sono gli alberi e l'etica è il frutto. Quindi alla fine del giardino, il fine ultimo è la raccolta del frutto, dove dobbiamo arrivare alla giusta e buona vita, ovvero alla felicità. Allora, per quanto riguarda la logica, che è la branca qui trattata, diremo che essa consta di tre momenti, un po' come fu la logica di Aristotele, anche se non sono propriamente sovrapponibili. Intanto cominciamo col dire che logica è un termine per la prima volta usato proprio dagli stoici, e la logica per gli stoici non è soltanto la ricerca del corretto esprimere pensieri o conservare la verità attraverso i silocismi, eccetera. La logica riguarda proprio una vera e propria filosofia della mente, cioè il funzionamento del logos, e nel come esso conosce, quindi passa dall'esperienza alla formulazione di concetti, e infine come elabora questi concetti costruendo giudizi e quindi ragionamenti, che non sono soltanto i silocismi di Aristotele, sono altre forme, come vedremo, comunque in generale i ragionamenti, i discorsi, i logoi appunto. Per quanto riguarda il primo momento della logica, la teoria della conoscenza, ovvero la neosologia, diremo che per gli stoici non esiste nessuna conoscenza che non passi prima dai sensi. Tutta la nostra conoscenza è un'impressione che gli oggetti esterni producono sulla nostra coscienza, sulla nostra anima, sulla nostra sensibilità. La conoscenza, però, per gli stoici, anche se data dall'impressione, consta di almeno due momenti. Qui ne sono elencati quattro, la spiegherò gli altri due, ma in particolare importanti sono i primi due. Un momento passivo, che è l'impressione vera e propria, è un momento attivo, è il momento in cui diamo il consenso, ovvero non si ha conoscenza se non laddove, o meglio quando, il logos dà un consenso nel recepire, nel pensare, nel ricevere, ancora prima di pensare, nel ricevere, come impressione, quel dato, quell'oggetto. Potremmo esemplificare questo movimento come, in italiano, la differenza tra, ad esempio, il vedere e il guardare. Vedere è passivo, io non scelgo che cosa vedere, ho gli occhi aperti, tutto ciò che passa davanti ai miei occhi impressiona la mia vista senza che io possa scegliere. Guardare, invece, è una scelta. Quando la mia vista viene inondata da tutti gli oggetti che ho davanti a me, viene impressionata da tutti gli oggetti che ho davanti a me, posso scegliere su cosa concentrarmi. Ecco, quello è il guardare, è qualcosa a cui la mia vista dà il consenso, o meglio, qualcosa a cui il mio logos tramite la vista dà il consenso. Quando il consenso è avvenuto, bene, allora questo oggetto, questa impressione, può trasformarsi in un concetto. Un concetto che, a sua volta, può essere usato per trasformarlo in discorsi, in ragionamenti, in logoi, appunto, in dimostrazioni. Qui c'è un'immagine abbastanza nota, che Zenone ci racconta, di come questi quattro momenti, perché ho aggiunto già gli altri due, possono essere raffigurati con il gesto di una mano, anzi, di due mani. Se il primo momento, quello della mano aperta, è la registrazione dell'impressione, cioè ricevere in modo non libero, casuale, le impressioni esterne, quindi la mano aperta, il socchiudere la mano, come il gesto di, come si dice, di afferrare qualcosa, è il secondo momento, cioè il momento in cui diamo il consenso all'impressione. Quindi il pugno chiuso, quindi la mano finisce di chiudersi, è il momento della comprensione dell'oggetto della cui rappresentazione abbiamo accolto. Quindi il passaggio dal concetto particolare a quello astratto, a quello universale. Infine, la mano aperta che sorregge quella chiusa. Questo è il momento della dimostrazione, quindi il momento in cui il concetto diventa qualcosa di cui posso anche affermare il vero attraverso un ragionamento logico, appunto un discorso coerente. Il secondo momento della logica è quello che riguarda il significato. Parliamo di concetti, abbiamo afferrato un concetto, lo abbiamo compreso, dobbiamo, o meglio, per poterlo comprendere, quindi per poter trasformare, passare dalla mano leggermente socchiusa a quella a forma di pugno, dobbiamo afferrarne il significato. Allora, afferrare il significato di un concetto non è una cosa banale. Con Aristotele avevamo detto che è tutto ciò che posso etichettare con quel nome, quel concetto, una sorta di insieme di oggetti o concetti al quale posso attribuire come predicato quel concetto. Per gli stoici non è qualcosa di troppo diverso, ovviamente, ma è qualcosa di leggermente più complicato. Diremo che i concetti intanto sono di due tipi, due tipologie. Naturali, che sono quelli che sono l'effetto di un accumularsi di impressioni di oggetti diversi, un po' come il concetto degli epicurei visto nell'altra lezione. Oppure artificiali, ovvero prodotti da ragionamento. Non tutti i concetti, infatti, secondo gli stoici, hanno un significante materiale. Hanno un oggetto che dà al concetto un significato che è causato da un'impressione esterna. Può essere anche il frutto di un ragionamento, quindi di un discorso. Quindi, premesso questo, di un concetto, dicono gli stoici, possiamo distinguere ben tre parti. Di cui due sono materiali e soltanto una è immateriale. Le due parti materiali sono il segno, che può essere un simbolo, una parola, scritta, un suono, quindi un oggetto. Un oggetto che uso al posto del significato del concetto. Un oggetto, l'oggetto reale, il denotato, a volte viene chiamato proprio in logica. Il denotato, quindi l'oggetto reale di cui parlo, che può essere un oggetto materiale, ma non necessariamente. Quindi l'esempio del cane, abbiamo appunto cane, è la parola, è il suono che usa il bambino per chiamarlo. Il cane è l'oggetto reale che sto chiamando. E poi c'è l'oggetto, la parte, diciamo, immateriale del concetto, che è la sua rappresentazione mentale. Il lepton, che è la parte più importante. Soltanto quando si ha una rappresentazione mentale adeguata di quel concetto, si può dire di avere una piena comprensione, quindi appunto il pugno chiuso, del significato di un concetto. La piena comprensione del significato di un concetto è quella che è funzionale, quella che è funzionale poi all'erbarazione di un discorso. Il discorso che per Aristotele avevamo detto era soltanto il silogismo, un meteo. La più piccola parte di un discorso logico, coerente, che conserva il valore di verità, è il silogismo. Quella particella di discorso composta da tre giudizi, vi ho permesso una conclusione. È soltanto uno dei discorsi possibili che possono essere fatti in logica, secondo gli stoici. I stoici in particolare infatti si soffermano, approfondiscono altri due tipi di discorsi, chiamati, detti anche ipotetici e disgiuntivi, di cui qui abbiamo un schemento abbastanza semplice che ce lo ricorda. Allora, la logica moderna sa che tutti questi discorsi in realtà possono essere ricondotti a uno soltanto, quindi potremmo limitarci a studiare il primo, il cosiddetto modus ponens. Che è talmente importante come modello di discorso che ancora oggi l'inferenza insieme a un'altra, sono soltanto due le inferenze usate dalle scienze moderne, le scienze formali moderne, dalla aritmetica in su, dai sistemi formali, scusate non scienze, dai sistemi formali moderni. E come funziona il modus ponens e perché è così importante? Il modus ponens funziona perché si ha una premessa maggiore, che è un'ipotesi, se P allora Q, una premessa minore che è l'accertamento della realizzazione della verità di P, e quindi una conclusione che è Q, cioè la conseguenza della mia ipotesi iniziale. Perché è così importante questo modello di ragionamento? Perché a differenza del sillogismo aristotelico, dove si ha una conservazione, la conservazione di un valore di verità che già posseggo nelle premesse, io ho due premesse nel sillogismo aristotelico e entrambe devono essere vere perché sia vera la conclusione, nel discorso ipotetico del modus ponens, io ho sì una premessa che ha in sé un valore di verità, ma poi ho una premessa minore, una seconda premessa, dove invece ho l'accertamento di un fatto. Quindi il sillogismo ipotetico mi permette di scoprire qualcosa di nuovo, cioè mi permette di inferire un valore di verità che non possedevo già precedentemente. E quindi la conclusione a cui arrivo, Q, non è un qualcosa che è già compreso nelle mie premesse. Delineato il recinto, passiamo all'interno del frutteto, andiamo cioè a vedere gli alberi, il contenuto della natura, di cui è composto poi quell'universo, quel cosmo in cui poi effettivamente, praticamente, concretamente andiamo a vivere. Allora, la fisica stoica si può raccontare in tanti modi, io scelgo qui di farla in modo non strettamente canonico, e cioè affrontarla come una diretta conseguenza di un'altra fisica che abbiamo già conosciuto, che è la fisica aristotelica. Possiamo derivare, far derivare quella che è la fisica stoica, tralasciando alcuni dei principi che si possono tranquillamente trovare sul libro di testo, ma che nel nostro percorso ci interessano meno. Possiamo far derivare però il contenuto, il succo della fisica aristotelica, verso la fisica stoica, da quelli che sono questi tre principi aristotelici, ovvero il principio del sinolo, cioè la materia, forma, che ogni ente, ogni individuo, ogni ente individuale o sostanza individuale è composto da una materia e da una forma, cioè l'esistenza di un ente è data da entrambi i principi, da entrambe le cause, e poi il principio delle quattro cause, che oltre alle cause formali, quindi introduce anche il concetto di causa dinamica, quindi causa finale e agente, e poi il principio del motore immobile. Cosa significa, o meglio, cosa comporta mettere questi tre principi tutti insieme? Comporta che, ragionando bene su quello che già avevamo detto con Aristotele, che il motore immobile fa sì che, essendo a causa finale della materia prima di tutto l'universo, fa sì che tutto ciò che succeda, tutto ciò che succeda, ogni movimento, ogni trasformazione, tende a ciò che un ente è, alla sua intelechia, cioè tutto ciò che si muove, si muove necessariamente verso un fine, che è il ciò che ogni ente razionalmente, formalmente è, che è un po' come dire, esagerando, non poco, ma rendo conto, che tutto ciò che succede, succede nella sua forma migliore, e esagerando ancora di più, succede esattamente come deve succedere. Alla fine la fisica stoica introduce una sorta di finalismo nell'universo, ovvero che è molto simile al determinismo di Democrito, anche se da un punto di vista fisico è opposto. Tutto ciò che succede è determinato da una causa, solo che questa causa, per i stoici, è una causa finale, è un qualcosa verso cui tutto tende, non c'è niente che succeda che non deve succedere. Dalla conoscenza degli alberi di questo frutteto, dunque, qual è il frutto che possiamo cogliere? Qual è il ruolo, il nostro ruolo nell'universo? In un universo dove tutto ciò che succede è predeterminato, ha un fine al quale non possiamo fuggire. Questa è la novità dell'etica stoica, dell'etica per gli stoici, che alla fine la conoscenza della natura umana, di ogni individuo, della propria natura, è del proprio ruolo all'interno dell'universo. Cioè la conoscenza di che ciò che siamo, di ciò che facciamo, di come agiamo, di ciò che ci succede, eccetera, non è nient'altro che appartenente a un ordine cosmico immodificabile. E quindi, come tale, dobbiamo accettarlo. Conoscere la nostra natura significa, e comporta necessariamente il suo accettarlo. Conoscere la propria natura significa tornare a casa, scoprire quale sia la nostra casa. Il tornare a casa si esprime con un concetto che, oiché, osissimi, un concetto prettamente stoico, che poi sarà poi ripreso, come vedremo anche da filosofie successive, in particolare, una importantissima che è la filosofia di Plotino, di cui parleremo più avanti. Quindi agire, perché l'etica poi di questo si occupa di norme che guidino e determinano la volontà al fine di un'azione, è agire conformemente all'ordine cosmico. Posso non farlo? Allora, premesso che non posso fare niente che non sia già predeterminato, cosa comporterebbe? L'agire in modo diverso da quel che l'ordine cosmico ha per me prestabilito. Che lo spiega in questo estratto da una preghiera, Cleante. Non la leggerò alla lettera, la leggo di solito raccontando una figura, la figura di un cane legato a un carretto. E immagino, traduco, anzi, la preghiera di Cleante in questo modo. O Zeus. Zeus è il signore della natura, colui che governa e legifera su ogni cosa. Ricordiamoci che Zeus, nella teogonia di Esiodo, è quel Dio che, in virtù del tempo, Cronos, il padre, dà un ordine al cosmo, assegnando ogni Dio un suo ruolo. Quindi, in un certo senso, è quello che poi verrà identificato con l'archè dei primi fisici. Quindi, O Zeus, principio che regoli ogni cosa, e senza di te, e del quale senza, niente succede. Ti prego, fai in modo che io, come un cane legato ad un carretto, scelga, deliberatamente, voglia, seguire quel carretto a cui sono legato. Perché, che lo voglia seguire, o non lo voglia seguire, lo seguirò comunque. Ma se lo voglio seguire, sarò felice di farlo. Se non lo vorrò seguire, resterò strozzato. Quindi, ecco cosa comporta, qual è la differenza tra il sapere e non sapere qual è il proprio ruolo. Che non posso cambiarlo. Ma, cambierà il mio atteggiamento nei confronti di esso. Sarò felice, oppure infelice, di farlo. Quindi, la felicità, che cos'è, se non la conoscenza e il desiderio del nostro destino, di quel che già siamo, di quel che già abbiamo. in una parola, anzi, in un'espressione molto sintetica, amorfati. La felicità in particolare, non deve aver bisogno di beni materiali, di beni che non siano già appartenenti a noi stessi, che non siano noi stessi. Soltanto noi stessi siamo qualcosa, di cui non possiamo essere dipendenti. Degli oggetti esterni, saranno dipendenti, se deleghiamo ad essi la nostra felicità. Ma di noi stessi non possiamo essere dipendenti, perché ovunque siamo, ovunque, in qualunque cosa ci trasformiamo, diventiamo, noi stessi siamo sempre con noi. Noi stessi siamo la causa della nostra felicità. C'è una lettera meravigliosa che uno stoico romano, Seneca, scrive alla madre, Elvia mi sembra si chiami, preoccupata per l'esilio a cui è sottoposto il figlio, si trova in Sardegna. E in questa lettera Seneca, in un passo particolarmente bello di questa lettera, Seneca dice alla madre di non preoccuparsi, di non preoccuparsi se anche si trova in esilio e soprattutto si trova senza tutte le sue ricchezze. Ricordiamoci che Seneca era appartenente a una famiglia molto ricca, spagnola, residente a Roma, insomma, godeva di un certo prestigio, ricorderemo tutti, Seneca viveva anche alla corte dell'imperatore Nerone. In questo momento un esilio è privato di tutti i suoi beni, quindi vive in assoluta povertà. E nonostante questo, dice alla madre, di non preoccuparsi, perché tutto ciò di cui lui aveva bisogno per essere felice, era ancora con lui, e cioè lui stesso. La virtù degli stoici è infatti questo, quella che chiamano la tarassia, l'indifferenza, l'indifferenza verso ciò che possediamo, verso ciò che ci succede. Tutto ciò che ci succede non è né buono né cattivo, è solo ciò che deve succedere, e accettarlo, anzi volendolo, è l'unico modo per essere davvero felici, cioè trovare un equilibrio nel cosmo. Grazie a tutti.